ok ciao ragazzi benvenuti su all music italia innanzitutto piacere di conoscervi come va tutto bene ciao tutto a posto piacere nostro tutto a posto te come stai tutto bene grazie ho sentito la canzone vabbè non prima l'avevo già sentita giorni giorni fa ed è da una bombetta una bombetta di quelle che ti prendono di prendono subito prima di prima di iniziare però si viva volevo chiedervi di racconti che mi raccontiate un po la vostra storia personale prima di questo progetto perché visto che comunque la prima volta che ci che ci vediamo no raccontatemi ognuno di voi in due parole chi siete e come siete arrivati poi anche a chi siete oggi allora comincio io io ho iniziato fare musica faccio musica da da sempre praticamente ho iniziato nel mondo dell'elettronica e solo da qualche anno effettivamente poi sono passato nel mondo del pop della musica italiana e sono cresciuto a sonorità rock metal punk tutta quella quella musica lì e niente adesso sono produttore cantante scrittore mi occupo di un sacco di cose anche grafico fotografo per un sacco di altri progetti e niente questo in due parole quello che sono io vengo vengo da una scuola completamente diversa perché in realtà la mia prima introduzione alla musica viene dal conservatorio poi ovviamente nel mercato musicale come lo intendiamo adesso e sono arrivato da produttore e lavorando con alfa con nolli partendo da genova essenzialmente adesso viva milano mi sono trasferito qua da un annetto e mezzo fisso prima facevo avanti indietro e però appunto nasco in realtà musicalmente dal conservatorio una realtà che mi ha insegnato alcune cose bene che mi possono servire alcune cose che no però è stata un'esperienza bellissima e vengo da quello come sonorità io sono molto più sul pop e però mi piace in realtà sperimentare e lavorare come qualsiasi produttore in realtà a qualsiasi tipo di di sonorità ecco e io invece ho iniziato come produttore in realtà non tantissimo tempo fa si parla di quattro cinque anni fa adesso ormai quindi ormai un pochino e finché poi non ho sentito l'esigenza di volermi effettivamente esprimere sulle mie produzioni perché pensavo che fossero valide ma non avevo nessuno a cui mandarle e quindi ho iniziato a cantare sulle mie produzioni e poi piano piano crescendo facendo pezzi ho trovato un po quella che adesso credo possa essere la mia identità artistica migliore o comunque sono arrivato a un punto in cui penso di avere una un'identità artistica più definita rispetto a quella che poteva essere inizialmente e in realtà questo pezzo è il la fusione di tutti questi tre nostri stili e la bellissima cosa del fatto che siamo tutti quanti produttori oltre che scrittori oltre che autori cantanti tranne lorenzo lorenzo non canta però io l'ho sentito cantare però ogni tanto c'è qualche suono di voce che che è lorenzo ma nessuno lo sa oppure un disastro no no dai dai ho sentito di peggio avendo avendo uno studio di registrazione ogni tanto sentire però però va bene e come come vi siete conosciuti incontrati come è nato questo progetto 3 allora essenzialmente io e blame lavoravamo già in studio da da molto tempo in realtà ci siamo conosciuti perché lui fa anche il grafico come diceva e ha cominciato ad aiutarmi in dei miei progetti come grafico e dopo di che ci siamo trovati molto musicalmente è uno dei principali motivi per cui ho cominciato a venire a milano fisso e perché abbiamo cominciato a lavorare in studio insieme tutti i giorni essenzialmente mentre da quando mi sono trasferito a settembre quindi dell'anno scorso io e luca ci siamo visti e ci siamo presi un caffè in realtà ci siamo scritti su instagram ci siamo presi un caffè così per conoscerci ci siamo trovati subito bene abbiamo organizzato subito una session in studio e luca si è trovato subito bene con blame ci siamo trovati tutti e tre bene da subito abbiamo cominciato a lavorare da subito tutti insieme anche alternata cioè nel senso non per forza tutti e tre insieme sempre per dire anche loro due o noi due o noi due e e quindi da lì poi è nata la collaborazione un giorno in una delle session delle prime session in realtà che abbiamo fatto perché il pezzo è ce l'abbiamo in cantiere da un po di te cioè in cantiere gennaio febbraio c'è l'altro è uno dei primi pezzi che abbiamo fatto quando ci siamo conosciuti esatto esatto era forse una delle prima o seconda sessione che abbiamo fatto sì 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 a questa canzone dal mio punto di vista ha questo mood un po internazionale la butto lì è quello che mi ha ricordato un po la machine gun kelly no che è un po anche di fatto il una parte del vostro pubblico che è un pubblico tendenzialmente molto giovane volevo chiedervi come siete riusciti allora se avevate quello in mente quando avete iniziato come siete riusciti a conciliare le vostre tre anime che sono la iper semplifico è ovviamente yanomi pop chakra più rap e blame un po più rock pop rock se vogliamo come siete riusciti a lavorare su questo pezzo e a unire i pezzi scusate il gioco di parole allora sicuramente qualcuno come machine gun kelly insieme che in realtà poi non è effettivamente machine gun kelly ma dietro col mondo lì in realtà è travis barker che sta riportando diciamo quelle sonorità in tutto il mondo sono appunto riusciti a riportare questa sonorità nel mainstream che si era persa un pochino già da una decina d'anni eravamo più su un mondo elettronico più sul trap e quindi riportare queste sonorità è anche merito loro e tramite diciamo sia il fa grazie al fatto che loro hanno riportato questa sonorità sia grazie al fatto che noi comunque insieme comunque queste cose le ascoltiamo ci piacciono a prescindere da machine gun kelly ma già già da molto prima l'insieme delle cose ci ha permesso di poter anche rendere più pop e rendere poter pubblicare una canzone di un genere di questo tipo adesso senza dover pensare ad essere troppo underground quindi questo sicuramente ha aiutato portare insieme nelle strofe nella scrittura dalla parte di chakra nella parte diciamo più pop della produzione lorenzo e nella parte diciamo più delle sonorità rock le mie cose e quindi l'insieme di queste cose sono riusciti a mettersi insieme anche grazie a questo aggiungo una cosa in realtà e aprendo un discorso su chakra è una cosa che abbiamo detto anche prima in realtà e viene molto anche dalla sua capacità di adattamento sì cioè è una cosa bella il fatto che io in realtà non sono troppo non sono troppo sul rap sono più sul sono più sul pop in realtà una cosa che mi sta piacendo fare ultimamente che appunto è quello che ti dicevo per il fatto di aver credo di aver trovato la mia identità è di utilizzare delle basi molto pop per poi andarci a fare cose a dire parole o usare delle melodie delle cose che in realtà sono contrastanti dal pop odierno che potremmo sentire adesso tutti i giorni e quindi mi sto trovando bene a fare questa cosa qua e direi che comunque tutti noi abbiamo un background parlo per me ma penso tutti io sono cresciuto con i green day con gli acdc con sam 41 che è anche ben un po più mainstream un po più meno serie tra virgolette perciò quel sound mi è sempre un po appartenuto qualche modo è un sound comunque anche per chi non è appassionato tra virgolette comunque molto familiare tutti abbiamo avuto il nostro periodo insomma è bello che se lo proponiamo oggi grazie anche al lavoro che stanno facendo machine and kelly travis barker black beer tutto quel filone non stiamo parlando a quattro gatti insomma no ma è molto catchy come cioè nel senso è fatta per essere catchy non so come dire per cui anche molto immediata è vero è un ritornello comunque stavo pensando chakra che tu comunque anche hai dei contatti col mondo hai avuto dei contatti col mondo del rap perché leggevo di madman leggevo di un po di gente quindi per questo ti avevo un pochino più associato forse ti dico in realtà io nella vita volevo produrre il rap ok cioè io volevo fare il produttore rap e tuttora lo faccio e tuttora lavoro con con tanti rapper perché a me piace tantissimo quel mondo però a livello mio musicale non non mi ci rivedo e quindi quando produco per me stesso produco lavoro in un certo modo quando produco per altre persone lavoro in un altro modo perché a me io il rap lo amo e anche con quello ci sono cresciuto quindi sì 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 e anche se il testo della canzone parla un po da sé volevo che mi raccontaste un po di cosa parla ti voglio richiamare e se nasce da qualche esperienza vostra personale se vogliamo sentimentale in questo senso sì perché in tutti tutti i testi miei alla fine parlo parlo del fatto che mi manca la mia ex quindi questo è l'ennesimo capitolo della saga e basta ho detto la mia raga dalla scrittura del testo eravamo io e luca in studio qui a scrivere e partiti da sia parzialmente da esperienze personali ovviamente ognuno scrive le proprie parti della canzone quindi ognuno va a raccontare una sua esperienza in qualche modo e la canzone diciamo a livello molto più semplice parla di il desiderio di voler richiamare una persona che ti manca che potrebbe essere almeno dal mio punto di vista la mattina dopo di una serata magari vuoi richiamare quella persona o dal punto di vista della strofa di luca di chakra del fatto che ti manca ti manca una persona però con cui hai avuto una relazione già più più stabile è una canzone da sottoni praticamente esattamente è la tua discografia è la linea è il fiel rouge delle tue canzoni vabbè si può superare lo dico perché sono più grande di te si può superare speriamo guarda no speriamo di no perché ci serve per scrivere altra musica assolutamente è importante il confine è molto sottile tra volerla superare e non volerla superare vi do un consiglio raga smettetela di guardare chi visualizza le stories perché non sono dei segnali questo è un messaggio però adesso non ha anche messi mi piace non va bene adesso ci sa il like alla storia è pericoloso né stories né like non vale la vita vera vale vale la vita vera ok un messaggio che mi sento di darvi da d'anzianotto per virgolette avete avete una fascinazione per il mondo americano ve lo chiedo perché chiaramente anche dal video mi sembra di capire tutta la parte del diner mi sembra che di capire che comunque il mood sia un po' quello no sì sicuramente penso anche che per noi che siamo cresciuti in questo periodo sia forse in un qualche modo anche inevitabile che siamo influenzati tantissimo dal mondo americano in questo caso noi però abbiamo preso un periodo temporale specifico che andiamo intorno agli anni 70 anche se poi magari andiamo un po' più indietro un po' più in avanti abbiamo preso il passato ecco come reference principalmente attorno agli anni 70 quindi prendendo il diner prendendo la Cadillac che però vabbè ovviamente fa parte degli anni 70 con la macchina lì del 59 e tra parentesi cambio automatico macchina del 59 era fantastica cioè l'ho guidata uno dei top 5 momenti della mia vita non volevo scendere però sì siamo oggettivamente molto influenzati da quelle sonore italiane anche perché comunque l'America porta sempre molte wave musicali molto positive ecco qua in Italia sotto certi aspetti è più difficile senza seguire il filone americano riuscire a rievocare dei periodi come può essere quello pop punk ecco che comunque vabbè poi è un periodo che fa parte che è americano per definizione americano e anche inglese sì sì il punk è il punk certo sì sì e volevo chiedervi se è già iniziata la parte tutta la parte di fase promozionale su TikTok immagino di sì e come come utilizzate la piattaforma cosa vi piace della piattaforma cosa cosa modifichereste soprattutto evidentemente in ottica di promozione musicale ti dico secondo me TikTok è bellissimo perché io ho un passato di content creator e quindi a me è sempre piaciuto tantissimo editare il video più che registrarlo più che fare tutto quanto proprio il video editing è una è una passione mia e il fatto che adesso sia così immediato e che tu possa arrivare veramente ad un pubblico vastissimo con 10 secondi di clip è proprio il succo del contenuto che vuoi trasmettere è bellissimo è potentissimo ed è uno strumento incredibile che va utilizzato e noi adesso stiamo stiamo lavorando appunto su TikTok per per spingere la canzone ma in maniera molto naturale insomma se ci viene in mente qualcosa di divertente da fare qualche cosa che sia veramente un dire qualcosa non fare un contenuto per spammare la canzone ecco e basta però TikTok è bellissimo è un mondo incredibile io l'ho scoperto soltanto l'anno scorso e sono innamorato mi ha un po' rovinato il cervello se posso dire mi ha un po' riprogrammato però è bellissimo beh oggettivamente è comunque un meccanismo che ha rivoluzionato il mercato musicale negli ultimi anni e la prima conferma che ho avuto in realtà è proprio forse una delle prime canzoni italiane che è partita con TikTok è stata Chin Chin in quel periodo c'eravamo noi era già TikTok era l'estate del 2019 dove c'era il pezzo di Old Town Road di Lil Nas poi è scoppiata Chin Chin subito dopo poco dopo forse più o meno nello stesso periodo in realtà random con chiasso però comunque è un meccanismo che ha completamente rivoluzionato cioè adesso le classifiche spesso e volentieri arrivano da TikTok dai trend di TikTok le varie si influenzano tra classifiche TikTok TikTok fa una grossa parte anche perché poi su TikTok basta veramente nulla cioè una cosa che può diventare virale può non essere magari un'intera canzone ma basta una frase basta un suono all'interno di un pezzo e quello magari poi dopo ti catapulta un'audience enorme per apparentemente nessun motivo ma la verità è che tutti i suoni che funzionano su TikTok è perché quel pezzo lì della canzone magari non tutto ma quel pezzo lì è una hit quel pezzo lì funziona è proprio bello lo ascolti volentieri è democratico TikTok è assolutamente democratico se sei forte vinci se piace la gente si ferma a vedere se la gente si ferma a vedere lo ripropone da altre persone effetto se hai fatto della bella musica verrai apprezzato è anche vero che prendere un trend non deve essere l'obiettivo perché se non hai un progetto solido alla base quel trend ti porta magari ad avere un pezzo che funziona però farlo con tutti gli altri pezzi il tuo progetto poi deve piacere alle persone quindi comunque ovviamente non è tutto oro quel che luccica nel senso che non basta imboccare un TikTok poi per riuscire a devi farlo costantemente devi avere un progetto solido che abbia delle fondamenta ecco la base una cosa per Iannomi volevo chiederti Iannomi se leggevo che stai lavorando al tuo diciamo primo vero disco completo da produttore se ci puoi anticipare qualcosa ce lo confermi evidentemente certo ve lo confermo è un progetto a cui stiamo iniziando a lavorare in questo periodo è un progetto molto ambizioso molto impegnativo più di quanto pensassi devo ammettere che inizialmente l'ho sottovalutato fare un produsso l'album è molto complicato e sotto certi aspetti è anche complicato farlo comunque essendo più giovane nella scena scusami si è attivata Siri non so perché perché sono più giovane sono nuovo arrivato e quindi comunque a livello di di conoscenze ho molti miei coetanei però ecco arrivare a certi artisti è più complicato sotto certi aspetti cosa che comunque mi sta riuscendo però è un progetto che necessita di tempo è una delle cose più belle in realtà di lavorare un progetto del genere che appunto è molto grosso molto ambizioso è riuscire a sperimentare il provare a mettere su un team di persone che lavori con un unico obiettivo e a proposito di questo ci tengo anche adesso poi chiudo questa parentesi ma ci tengo anche a ringraziare Jacopo Ambrogio Matteo Croci che sono stati i videomaker che essenzialmente hanno lavorato a tutta la parte del video che sono stati veramente in gamba e appunto lavorare un progetto così grosso necessita della creazione di un team che abbia un unico obiettivo che abbia una visione comune quindi quello è il primo grande passo che sto riuscendo a mettere su in questo periodo e ovviamente da quel momento in poi poi significa tirare su dieci dodici pezzi con almeno due artisti a brano diversi anche se qualche artista ci sarà anche magari in due brani tre brani però questo appunto rappresenta uno dei più grandi problemi ecco di un progetto del genere problemi tra virgolette ovviamente ultimissima domanda grazie a Chakra Blame voi invece che progetti solisti o di gruppo non lo so avete da qua ai prossimi tempi allora parto io dicendo che io poi lavorando moltissimo anche come produttore io penso di avere abbastanza musica pronta per i prossimi dieci anni allo stesso tempo non mi fermerò mai di produrre cose nuove e mi sto concentrando su quelli che saranno i prossimi singoli ho forse un'idea di album ma non ne sono neanche sicuro adesso sono più concentrato a portare musica che mi piace che so che può piacere ad altre persone e di fare appunto quello che so che può arrivare di più ad altre persone ma sempre con qualcosa che per me è importante a livello sia sentimentale che a livello musicale quindi anche fare un'evoluzione partendo da le mie sonorità più punk più rock e spostarmi non necessariamente in un mondo più pop però mischiandolo con magari altri generi musicali presi dall'elettronica o da certi generi acustici cinematici sto lavorando a un sacco di spettri sonori diversi devo capire un attimo in che direzione portarli ma ho un sacco di musica pronta che voglio portare io il mio obiettivo è spingere perché è così no sì sì no perché l'ultimo l'ultimo singolo è uscito a metà luglio quasi inizio agosto è andato molto bene adesso questo pezzo penso che sia un bel pezzo sono contento di farne parte e adesso devo a breve ci saranno news insomma sulle prossime sulle prossime cose e poi arriverà un qualcosa di più di più solido perché adesso è arrivato il momento e quindi sono canzoni da sottoni giusto ho capito bene non è detto non è detto però lì c'è sempre il mio cuore quindi sì assolutamente ne farò altre perché è bellissimo scherzavo ovviamente ragazzi grazie mille per questa intervista in bocca al lupo e speriamo di vederci presto dal vivo assolutamente assolutamente un abbraccio in bocca al lupo buon lavoro ciao grazie ciao buona giornata grazie a tutti